Che va praticamente il video di questa canzone Allora, c'è lui che sta con una tizia, una gran figa tra l'altro La tizia lo becca che esse ci mette corno cunato e se ne scappa di casa Scappando di casa, se vuoi tinta nuvico, allora c'è uno che casualmente dice Tras e le fa un ritratto ovviamente totalmente nuda e sa chiava Allora, is pentito, la va a cercare, trova il ritratto di lei nuda in da stu capannone Che for some reason l'ha trovata e dice brutta, puttar pur tu hai fatto Insomma, sanna mise corna vicenda e sanna Gran pezzo con una storia strappalacrime Ah, Maron, che meraviglia Cantè E andiamo a sbloccare Paglie 83 ci chiede, 83 gli chiamo Badabom, badabom Ringraziamo A.D.P.S. con la FUTTI UNIVERSE Paglie mi raccomando, da lei mi aspetto A memoria degli altri FIFA Polsini Maglia attillata Maglia attillata Polsini Scarpe orribili Colore orribile Calzettone Però tutto sommato Cappello sulla carta da imbecille totale Potrebbe anche mettere delle scarpe colorate Quel Paglie Madonna che tristezza Che gli scarpe pezze Attenzione Trippie Eccolo qua Non se muove Attenzione, si fa vedere Paglie Ingabbiato Però, bel passaggio Corra Paglie su Eh, attenzione Attenzione Prende Tutto sommato Una bella velocità Paglie E poi Eh, naggi Sì Sì Ah, eccola La sua esultanza Da mente catto Bella Bella Molto bella Adio, ma non se muove Ma sto Trippie È un bidone Madonna Trippie, dai Eh, vi giuro Sto Paglie È un giocatore Cioè, perlomeno Su PS5 Non vi fa Chissà Cosa Dai Trippie Ti prego Madonna È troppo piccolo Quel Trippie Aglio, vi giuro Sta tutto Imballato Chi lo fa Iemaro Bella Per Trippie Ricordiamo Full automatico Dicevano Però grosso Intervento Cante Full Automatico Credibile Credibile Come si chiama Trippie T Ah Menuh Ma Ancora Grande intercettazione Per lui Dai È vero che Un po' automatico Lo è quel Trippie Ancora Trippie Trippie Pagliere Pagliere È una bella velocità Lui ha A lungo più Che accelerazione Boom Poi se prendete il verde Dovete metterlo su dei binari Per chi dritto Per dritto E poi parte Boom Mo è partuto Mo si fa fatica A prenderlo Quando parte così Si fa fatica Molto fast Tonali Ancora tonali Sì Ancora tonali Con l'intervento automatico Tonali Guarda Stava tutto Parti Di lutonato Guarda La finalizzazione C'è Allora Una lancia In suo favore La voglio spezzare Su PS4 Si gira Molto bene E Trippie Dice Ci penso io Trippie Quindi Recap Di questi giocatori Che abbiamo provato Grazie a DV Scuola Foot Universe Allora Partiamo da Trippie Giocatore Che numerosi Minchioti In chat Hanno Suggerito Di testare Per carità Allora A parte il fatto Che non ha senso Proprio di base Andare a sbloccare Uno inglese Della Premier League Terzino destro Quando là C'è Kyle Walker E già Quello L'esterno destro Scordatevelo Proprio Perché Sta a pezzi Con 71 Di agilità Ha un body type D'archa Quindi terzino Ovviamente Li abbiamo provato Tutti su entrambe Le console Io voglio spezzare Una lancia In suo favore Effettivamente Gli interventi Difensivi Li fa Le stats Difensive Ci sono È abbastanza Automatico Ok Quello si Ma Tolti Gli automatismi Non è Lengthy Non è alto Non ha Chissà quale Forza fisica Ma è pesante Capite il grosso Controsenso 71 di agilità Di solito 71 di agilità C'è la gente Che poi vai a Vedece Ha 93 di forza Invece lui Di base A campo aperto È molto lento L1 più corso Oppure qualche doppio passo Prendete un minimo Di sprint Boost Ma di base State sempre lì Perché c'ha pure Le gambette Quindi Non è veloce È abbastanza pesante Nel girarsi L'unica cosa A suo favore Sono questi automatismi Difensivi Che fa abbastanza Bello Ma Non ha Assolutamente Senso Perché Walker È estremamente Più forte Di lui Come voto Gli do Un 5 e mezzo Su entrambe Le console Si l'è intesa Un'ancoretta Cante Pazzesco Dico solo questo Giocatore Clamoroso Fuori meta Perché quest'anno Vanno molto Giocatori Lengthy Alti Grossi Fisici Ma questo Signori È Full 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 Automatico Sempre sulla linea Sempre sul pezzo 96 di aggressività Stats difensive Devastanti Incredibilmente agile Con L2 R2 Girate 10 volte Attorno all'avversario E quello si deve girare Ancora una volta Quindi Il solito Cante Ricorda un pochettino Con le dovute proporzioni Cante Toti Veramente un signor giocatore Ovviamente Poi ha Tutti i limiti Di Cante Le skilli Piede debole Palla al piede Non è tutto Sto fenomeno E tutto quanto Quindi Giocatore Eccezionale Non c'è molto Da dire Su entrambe le console Si è comportato In maniera impeccabile Come voto Gli do Un 8 E mezzo Si è intesa Consigliato Che la gente Che la gente In fase 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 calcia con una gran cattiveria se prendete i time head è quasi sempre gol quindi la finalizzazione è devastante il body type che di base è un po pesante un po tozzo abbinato a quel 91 di forza più un equilibrio non fenomenale su ps5 vi dà un giocatore che o vi aiutate quelle 1 r1 a dribbla oppure non se muove sappiatelo non se gira come dovrebbe è un po impallato nei primi metri fa una fa abbastanza fatica a prendere velocità questo giocatore però una volta che prende velocità va via bene perché ci mette quel 91 di forza è un po come un masso lanciato da una discesa e va via il controllo palla è molto buono quindi vi ritrovate un 4 4 abbastanza pesantino con un'ottima finalizzazione ma capite che non è un attaccante il coc lo fa ma lo fa relativamente bene per carità la palla la passa bene ma il coc si ritrova spesso a dove fa un elastico un reverse a dove fa la giocata per saltar l'uomo e questo non ve la fa di fatto perché ne andate via di sprint boost ne potete schilla con i doppi passi non prende chissà quali metri quindi vi trovate un giocatore che non è né lento né veloce leggermente pesante con una buona finalizzazione dei buoi passaggi quindi un giocatore un po statico eviterei di metterlo largo sinceramente quindi ps 5 un buon player ma che non vi consiglio perché quando beccate quelli forti contro questo non si muove ok cioè non ve lo fanno muovere se poi beccate i senza mani tirate dritto per dritto prende una bella velocità butta giù le porte quando andate al tiro ma ci dovete arrivare a calciare quindi giocatore abbastanza average su ps 5 come stile intesa l'abbiamo provato sia con cacciatore sia con motore non è cambiato granché come voto su ps 5 gli do un 6,5 per quanto riguarda invece ps 4 devo dire l1 più corsa si sprint busta in maniera dignitosa l'allungo così così però l1 più corsa non nella casette non è mbappé però prende una buona velocità quello in cui è molto meglio su ps 4 rispetto a ps 5 sono i micro movimenti con la levetta nello stretto devo dire non si sente per niente il 91 di forza si gira molto bene protegge palla ottimo però anche lì ottima finalizzazione passaggi molto buoni però capite che anche su ps 4 per l'assenza di quinte della quinta stella per l'assenza di una velocità bruciante lui non è molto in meta ma comunque si è comportato un po meglio su ps 4 come si intesa su ps 4 mi è piaciuto un po' di più con cacciatore ma proprio una cosa impercettibile e come voto gli do un 7 su ps 4 ma non ve lo consiglio che ribadisco classico giocatore abbastanza fanni ma quando beccate quelli bravi scompare dal campo tonali che avevo provato grazie a francone bel giocatore non avevo grosse speranze dato che diciamo le ultime versioni di tonali soprattutto l'anno scorso non mi avevano impressionato a sto giro a parte che è gratis ci vogliono 10 tokens si fanno easy come si comporta in game allora un metro 81 bello piantato piazzato come giocatore proprio baricentro bello anche se non è basso sta piantato per te molto veloce con l2 r2 e anche a campo aperto si sente sia una bella accelerazione quando non avete palla ovviamente sto parlando sia quindi nei primi metri che a campo aperto secondo me uno dei suoi punti di forza è quel 89 di aggressività abbinato ad un ottimo 86 di lettura difensiva come sapete io non tengo mai conto dei boost dello stile intesa altrimenti che sarebbe un 90 direttore di vede ma comunque non ne teniamo conto sono delle ottime stats difensive che si sentono c'è pure un'ottima reattività diciamo che tutte le stats le rispecchia quindi vi potete fare un'idea peccato perché la ciliegina sulla torta secondo me sarebbe stata alto alto di work rate invece lui ha normale alto per carità non è male però sapete che per me quelli proprio top hanno sempre alto alto e che sono quelli più presenti in game quindi difensivamente tanta roba sia quando sta in mano alla cpu sia quando lo muovete voi manualmente si attacca un botto all'uomo sradica palla diciamo che è automatica ad un 65 70 per cento palla al piede ovviamente non è niente di che nel senso i passaggi sono clamorosi molto buoni vedete 89 corto 86 lungo però non è lenghty quindi non è che nelle ripartenze tirate dritto per dritto e prende velocità non è palla al piede uno con cui potete saltare l'uomo diciamo che è uno seppur non è un 4 4 è alla marchisio secondo me difende anche meglio di marchisio però perde qualcosina in fase di diciamo palla al piede vale tutti quei 10 token per me sono token spesi bene vi può fare per me deve fare il cdc volendo può fare anche il cc però preferibilmente davanti alla difesa e niente test pienamente superato per lui perché è bello presente in game bel giocatore come si è inteso un ombretta per boostardi la velocità e le stazze difensive ulteriormente come voto gli do un 8 meno gran bel centrocampista per la doppia fase consigliato io vi ringrazio per aver visto questo video fatemi sapere in commento qual è il prossimo play di cui volete è stato buona alla prossimo alla prossimo